Il Natale quest'anno ad Agrigento è arrivato quasi a fine novembre. Un miracolo? No, certamente. Soltanto una scelta preventiva, dice qualcuno da parte dell'amministrazione comunale, che ha voluto giocare sui tempi, quasi per bloccare eventuali altre iniziative. Gli agrigentini infatti ricordano la tristezza del periodo natalizio dello scorso anno con la città spenta in centro e in periferia, con un tocco di festa che si è potuta respirare solo grazie ad un uomo che ama Agrigento con i fatti, ovvero Franco Micichè, oggi candidato sintaco, ma ieri un semplice ex assessore comunale. Micichè, a proprie spese, ha regalato due alberi di Natale, un omaggio fatto con amore, senza tanta pubblicità. Ebbene, dove sta la curiosità che riguarda il Natale 2019 ad Agrigento. Tutto ruota attorno ad un regalo fatto, dice il sindaco Lillo Firetto, da Roccoforte, il quale ha voluto donare alla città dei Templi due alberi collocati in piazza Marconi e a San Leone. Sicuramente un bel gesto, ma a far discutere è un altro albero, quello di piazza Municipio, che ha fatto scatenare la satira. Tornando al Natale 2019, c'è da aggiungere che per il sindaco Firetto la ricorrenza è l'ultima del suo mandato, per cui si dice in giro era giusto che l'amministrazione desse un segnale diverso rispetto allo scorso anno. Ma quello che è fatto è fatto, anzi quello che non si è fatto, non si è fatto in passato e la gente lo ricorda benissimo. L'importante è vivere il Natale e peccato che non sia stato così anche lo scorso anno.